e ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video non so se avete sentito bene il ciao a tutti vabbè adesso lo faccio e ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi giocheremo a Brawl Stars con un obiettivo sbloccare 8 bit siamo già avanzati a 5943 coppe se non sbaglio si non ci credo poi fare oltre 8 bit faremo l'unboxing intanto giochiamo con Jackie ah questa è più bella di Jackie perciò non potevo reggisciare fuori 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 la 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 io canto perché mi va due power up con un colpo appesa il muro aspetta io ho sette vecchi sette quando vedete il terza ma quello è rosso si fa così dai sbonk ho preso il muro guardate lì fateci una reaction connessione dannata adesso andò spara il cervello proprio ah vabbè preso 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 e morti e mortis vai tanto tema Brawl Stars vai vai per se vuoi oh Anastasia penso che sia il tuo vero omer quello dei Simpsons bello bella zi bella zi no terzi no terzi no terzi no spara spara cambio personaggio va sono rimasto zitto e adesso mettiamo broc non mi fa partire la brocca capita chi era? dietrami la razzi non mi fa partire no 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 scusa non ti voglio più dare partiglia scusa 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 me ne vado cerca scusa no è Ibrahim ecco ecco c'è c'è ora pio pio ciao ho rottato la super mia no ultimi ragione a giocare con rosa 2200 zitto peilone fai schifo che guarda che narici parliamo di bull un bardino non ce l'ha proprio un minuscolo velo di penne no troppo bello non c'è nessuno e pizza hello io sono il semino troficale 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 anche questa è una scherzona una scherzona ma io mi sono ingattato è pur petto ma che fai il burpetto burpetto rotaia chi è è arrivato il tecnologico boom boom 130 chi è e vabbè ah non cosa più no se mi no no se mi no è una delle skin più forti per me vorrei tanto un leggendario per me sandy è uno dei migliori però è il leggendario migliore per me cioè quello sono io quando mi sveglio per andare a scuola bambini andiamo tutti a scuola bambini oggi è il primo giorno di scuola maestra ti sei drogata? no era una barzelletta cioè barzelletta una storiella che è successo purtroppo in una classe eh ai ragazzi si arriva a scuola è la madre di uno ma mamma ferma zitta per favore ragazzi contenti di andare a scuola contenti di andare a scuola la scuola è bella da così vuoi eh il volaccio è la che facciamo fermata momo momo semino cattivo cattivo vai a fare la nanna piccolo semino che deve crescere diventare una piantina come me vuoi veramente fare i frutti morire rinascere hello haha no di nuovo sta momo ma che pista chi è corona è coronavirus che è questo mannaggia lo bisinista no 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 shelly triggerata no eh no eh giuro è lei shelly triggerata non credo ah avete visto il video di shelly trigger no vado a morire goodbye sir yeah I like trees I like trees manca pochissimo veramente guardate ma è solo così vicino a 8 bit mamma mia ma 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 guardate un amico mio stavo qua la prima partita l'ha pure persa cioè ma come vedete oh io veramente termina la lega dei trofei quando la lega dei trofei finisce ti provo il che sono non so vabbè ho riscattato solo quella e poi mi sono andato allora allora vuole questo per avervi la semina milenio no aspetta per fortuna che il semino ce l'ha l'aria non mi sono dato no 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 aspetta frank il modem del wifi il wifi quando non gli funziona sbong 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 con quel martello lo blocca stiamo su uno ti blocco cosa no no mi sei bloccato così no 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 flower maxime hello hello sapete una cosa? mi piace registrar video comunque quando ho aperto il canale era video 2 rf consolino 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 rf 2 player 1 console pippo sec 1 si vabbè che fortuna ermione vieni vieni si che schifo il canale odori ho ancora cinque squadri ermione morto rila 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 ombra da cacato che te sta sancicata oh come soli no fermi di nab oh torno subito ragazzi un'interruzione la partita ci vediamo veramente tra 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 poco e dopo oh attenzione attenzione rumione eh niente io son morto eh si 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 ecco Bert Bert ok ragazzi ci vediamo tra guarda quello eh molto cosa andrà poco andrà poco amico ecco mi son tornato sono andato a fare una cosa sarà passato tipo non lo so però guarda guardate qua poi eh ovviamente dopo dopo il tizietto otto bitone eh ovviamente l'unbox un po' sframbo sapete in onore di quasi aver preso otto bit oggi al mare sui trampolini elastici vi do bella vista bellissimo nettuno tanto me ne vado purtroppo torneremo a casuccia mamma mia che roba con la palla anche se è la palla dell'eurospin ma non fa niente abbiamo fatto dodgeball no non ho tipo calcio sui trampolini noi eravamo agli otto bit facciamo no però io voglio fare amicizia una volta stavamo su brawl solitaria quattro quattro per le volere rimanenti oh ma non ho visto vabbè non fa niente questo è tutto ricoperto grado 12 passiamo va vabbè dicevo abbiamo fatto sta partita noi eravamo gli otto bit era un caccio sui trampolini elastici ovunque non vedo l'ora di ritornare preso eh patrick presso cro king brutus fanatico di fortnite vai non essere arrabbiato me ne vado faccio schifo oh muori godo muto patrick muto vittoria come al solito vittoria il re è la prima diverti a fare i video sapete un po' è molto lungo ufc yeah questo è appazzato vediamo le fkc preso 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 non c'è nessuno scappato mamma mia no 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 hey 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 oh god non ci ha portato nella tomba su qua ah io ho bloccato la strada quello vai non c'è nessuno vabbè vabbè che scherzo che scherzo ah questo qua è troppo bello di semino come è un semino tropicale e ne ho già di che buon partino che ha fatto una becchia a quanto pare vieni 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 preso oh scappa non mi si muove ha detto i like infatti dice i like trees no cheese che significa alberi no oh che troll che vanno con la super in giro caricata e tutti scappano 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 e poi quitano perciò vittoria questo questo il tuo piatto torno un tablet un po' adesso passano pure di mani perché l'unico non ci fosse un problema con cioè però non per dire che sorti io però costa troppo mannaggia a te e scegli di gara un po' ma finisco questa è pronto sono pronti i crabby fatti eccola secondi due amore vediamo se l'ho sbloccato 26 due coppie due coppie ragazzi ci vedremo dopo che sono andata a mangiare ci vediamo amigos a dopo spagnolo io non sono eccoci ragazzi questo gran finale con Claudio Baglioni so ci allontaniamo se vi da fastidio ultima partita vorrei che no 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 se devi venire spengi attrittisci cioè abbassa se vuoi venire va benissimo mamma mia ragazzi è la prima volta infatti ho detto prima c'è vuoi che resisto non 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 non